Il re imperatore si reca ad inaugurare la ventiduesima biennale d'arte, nella quale secondo il nuovo programma si avvicendano le più significative individualità che riassumono le correnti e le tendenze artistiche del nostro tempo. Dopo i discorsi del ministro Bottai e del conte Volpi, presidente della biennale, il sovrano inizia la visita dell'esposizione che comprende le opere di cento artisti italiani, di quelli più rappresentativi delle dieci nazioni partecipanti e di varie mostre retrospettive. Grazie a tutti. In piazza San Marco i veneziani manifestano al re imperatore la loro entusiastica devozione. Grazie a tutti.